La Puica all'esterno, all'esterno la Puica, alle spalle di Gabriela Torrio c'è la Brunz, terza Gabriela Torrio, sempre Zaitseva, Sorochina, Zaitseva, Gabriela Torrio, Brunz, poi passa, Zaitseva, lascia la Melinte, parte la Puica, cede la Melinte, incapace di sostenere il pazzo, Sorochina, Sorochina ai 1.2-3.11. Ed ecco, vediamo la Divirna al comando, la sovietica Divirna, Olga Divirna, che ha preso il comando nettamente ed ha rilevato il comando delle altre due sovietiche. Ecco, vediamo Gabriela Torrio, che attacca la Vicentina, ora vediamo, va ad attaccare la sovietica, che replica la Olga Divirna, 3.54-23, vince la Divirna, e Gabriela Torrio è terza, seconda alla Zaitseva, terza Gabriela Torrio, medaglia di Bronzo. Grazie a tutti, grazie a tutti.